buonasera a tutti ragazzi rossoneri e come vi dicevo sabato a napoli facevano i funerali prima del morto e invece forza vecchio cuore rossonero grande milan grande partita di carattere palle testa abbiamo sfruttato l'occasione come vi dicevo in tanti video finalmente finalmente non bisogna avere 50 occasioni da gol per portare a casa la partita bisogna sfruttare quelle poche occasioni il milan ha giocato bene ha avuto sempre il piglio del centrocampo abbiamo avuto mezz'ora di diciamo un po di faianza sai un po di soft ma prova di carattere prova di carattere com'era com'erano i messaggi su instagram su facebook è finita tanto il milan perderà dove siete dove siete mi sono messo gli occhiali da sole per il semplice fatto che voglio vedervi solo io ma voi non dovete vedermi perché la mia gioia è incontenibile questa sera la mia gioia è incontenibile i vari cassano questo milan perdente com'è cassano com'è 60 punti com'è cassano ce la racconti com'è ce la racconti com'è dai dai parla fai un video stasera cosa meritavamo di perdere 7 a 0 anche stasera come al derby quello che conta chi la mette dentro non è quanti tiri fai e stasera abbiamo fatto una grande partita abbiamo sfruttato un'occasione e siamo per il momento ancora primi forza vecchio cuore rosso nero diavolo diavolo tutti insieme noi cantiamo diavolo diavolo forza ragazzi iscrivetevi al canale forza vecchio cuore rosso nero siamo ancora vivi